Quando compare lo accoltellate quello per. Ma serve per easter egg? Si questo dobbiamo farlo poi scendere dal traliccio in teoria dovremmo. Cioè il piano è quello. E' che siamo al 18 non è facile al 18. Sta partendo l'autobus. Chaz ti rianimo e tu salti sull'autobus ok? Ti porto via gli zombie se riesco. Salta sull'autobus adesso veloce 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 veloce. Si però raga andiamocene da qui per favore. Già compra un'arma sopra di te. Ma no che cos'è? Vendetemela anche a me qualunque cosa sia vendetemela. Raga no no armi no no armi. Mi prestavo bevendo il jug mi hanno tirato giù. Vendetemela anche a me. Adesso non hai neanche più. Ah no c'hai i punti dai. Almeno hai i punti. No raccoltellate basta. No raga raga salgono salgono. Salgono gli zombie. Oh che culo. Che culo c'era il ponte. Ok sono caduti. Ma che cazzo è? Vai via. Ok raga tutto a posto. Ok è morto è morto è morto è svampato. Quanto è brutto. Ci serve ci serve il paga pancia ragazzi. Si raga dobbiamo. Ma avete visto cosa c'è qua dietro? Si ragazzi attenzione. Non ho più amo. Io sto sul tetto. No prendi la pistola filati la pistola fa. La pistola fa di finire l'autobus. Raga mi sa che c'è questo per voi. Lacco lacco. Vai vai torna 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 torna. Vabbè torna piano piano piano. Ti aspettiamo il deposito. Bravo Debe. Bravo Debe che sto anche laggando. Ottimo. Oh buongiorno. Buongiorno. Comunque il lag è un po' sparito ragazzi a voi. Rispetto dico a tutti. No il cazzo mi ha tirato una laggata. No 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 no. Qualche laggatina. Qualche laggatina. Chiamale laggatina. Dovrò. I will walk into this ok. Eh I will walk al leggo che lagga. I will walk al leggo. Oh prendo la turbina. intanto. Raga sono spawnato non so dove. No 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 no. Ok qua c'è quick. Compro quick fra tranquillo. Come su Dead by Daylight. Non ti lascerò. No sono rosso. Sono rosso. Ok dai ce la fare di te. Fermi fermi fermi. Sto odiando questa mappa. Fermi. Dai mamma. Ok ho preso quick. Ho preso quick. Tranquillo. Non posso dire. Lascia fare mai chazza. Lascia fare mai. Tira via gli zombie. Tira via via. Vai via dalla. Vai via dalla chazza. No io tiro a te. Mi animo fra. Io tiro a te. Ok. Io sono. Sono la corrente io. Non riesco. Non riesco. Non riesco. Ho fatto spawnare. Ho il quick. Tranquillo vado io chazza. Allora vai tu. Io ci ho provato. Ho comprato quick apposta sai. Ho scatto questo. Ciao. Oh c'è la cassa. Fra fammi fare la cassa. Prego. Non è mo. Dai sai come. Dai prendi quella S12 per favore. Ho bisogno di una cassa. Ci ho bisogno di una cassa. Vi prego. Oh porca troia quanti. Rega o giriamo nell'occhio o prendiamo nel culo. Quindi vediamo io. Ho fatto cassa. Adesso devo andare a vedere cosa ho trovato. Non di lì. Non di lì. Non di lì. Non di lì. Wow ho trovato la cap 40. Perché vedo tazzanelli che corrono in giro. Permettimi di cambiarla per favore. Permettimi di cambiarla. Ok ci sono. Rpd. Rpd. Fammi fare una cassa. Fammi fare una cassa. Sembra tipo un partito. Rpd. Fai parte dell'rpd. Oh ma la cap 40 è che forte. In questo momento faccio parte del dio santo. Per non dirà. Dio santissimo. Anch'io è un santo che frequento spesso. Sì sì molto santissimo. Sto prendendo l'autobus. Ma io. No sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Cazzi non ho colpi di niente. Cazzi come hai fatto prima con Fra. Eh grazie al cazzo. Raga sono il benzinaio. Sono tutti da me. Sono tutti da me. O Gali. O Gali. O Gali. badonna. No no. Dobbiamo girare. In senso simile. Bella Gali. Bello prendilo fra. Non riesco. Non riesco.eh. Due cretini.aryo io.arrivo io.arenrivo io. I muoio. assume si. Chiu? Chiu? Cì penso io. nghĩa di m***a. Il tedesco degli stati. Debe. 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 Eh. Al deposito. Teletrasporti. Mordi. Dove vado? Allora! Ce n'è una al dinner! Dove apri la porta con la turbina Dove apri la porta con la turbina Dove apri la porta con la turbina c'è il lampiamo Ah non mi sei morto vabbè Aspetta Tristo No sono circondato Aspetta! Un attimo Di nuovo tutto nelle mani di Debe Eccolo la Eccolo la l'hai individuato si Eh ma non ho il tarzanello Ma va Devi andare fuori a prenderlo vabbè lascia perdere Ormai mi arrendo Mi lascio andare Intenta che abbiamo abbastanza tempo per parlare Ragazzi Mi potete già vedere? Sì Visto che abbiamo abbastanza tempo per parlare C'è qualcosa Farà Sali sul pullman Sali sul pullman Ci sono le scalette al lato Ok ok No 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 Ok Stavo dicendo E ora salta giù dietro dall'altra Salta giù Casa visto che abbiamo abbastanza tempo per parlare No no Ammo come posso fare Non ne avrete molto perchè questo adesso muore Io te lo dico Non lo vedo molto bene Cioè io ho tirato una laggata a stratosferi Raga io sto laggando tra l'altro sto pure laggando Cosa faccio? Sali su quell'autobus Ricidati è la via migliore Sali sull'autobus Fai in modo che investa gli zombie Oddio Chiodi Chiodi Un cazzo Cos'era quel paio Cos'era quegli zombie dentro? Cioè l'avete visto anche voi? Gli zombie tipo sul pavimento Raga non ho niente Non ho niente No 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 Oddio Oddio Non ho niente Bebe perchè ti sei fermato? Ma non vedo niente Perchè ti sei fermato in mezzo a me Signori signori No 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 Qui ci vuole una cosa Il titolo Il titolo deve essere Il titolo delle seghe Il titolo delle seghe Il titolo Mega over power Fucking madafuck Transit Epico Finito male Finito male alla fine soprattutto Vabbè Oh abbiamo giocato comunque un'ora e ventuno eh Che schifo Io odio questa mappa Io odio questa mappa Direi che vi abbiamo mostrato Vi abbiamo mostrato abbastanza robe di transit Ma a questo punto Consigliateci Beh rispetto alle prime partite A questo punto Consigliateci Cos'altro volete vedere in futuro Magari altre mappe Ragazzi Io ho un'idea bellissima Cioè ci sono così tanti giochi belli Che si possono fare nel mondo Ok? Le amichevoli su Clash Royale C'è tipo Rocket League C'è Overwatch C'è Rocket League Cioè con gli altri Con gli altri Con voi Signorini L'importante è la considerazione Grazie L'importante è passarsi un'oretta con noi fieri Proprio in famiglia E beh È stato comunque una bella esperienza Poi porteremo anche altre mappe Altre cose Il ritorno di Chaz Potrebbe implicare le avventure di Dems e Nicolai È in tutto ciò Potrebbero tornare In tutto ciò Potrebbero? Non lo so La gente ce lo chiede Ecco Mentre un betto sfatta È in tutto ciò Ecco Perfetto E dagli altri E dagli altri E tutto Dal giocatore forte Io ho dimostrato di essere forte Ma cazzo Ma cazzo dici Cazzo dici Se io non cresciavo tre volte di fila barra due Senti Io devo andare via Quindi vado via in più Bene raga Ci sentiamo al prossimo video Alla prossima Ciao 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 Cacchè gioco di merda Ciao Ciao